Noi abbiamo a disposizione due approcci per la preparazione dei chemioterapici, ci interessava verificare sul campo, quindi attraverso dati reali, raccolta direttamente presso strutture che utilizzano le due metodologie, ci interessava capire vantaggi e svantaggi dei due diversi approcci e quindi abbiamo proceduto misurando presso l'asla di Taranto che utilizza le sacche multidosi e multiprelievo, misurando tempi, modi e costi dei diversi materiali utilizzati e in quella realtà abbiamo verificato l'utilità di questo approccio perché la loro catena logistica, dovendo servire sette presidi diversi, si basa necessariamente su un prodotto per sua natura più stabile e meglio distribuibile nei diversi territori. Dall'altra parte abbiamo invece verificato i dati del Policlinico Gemelli che serve un'unica struttura e quindi di fatto esegue consegne giornaliere e utilizza i chemioterapici nell'arco della stessa giornata. Riteniamo che soprattutto in strutture che hanno più luoghi da servire sia necessario il passaggio alla nuova tecnologia. La valutazione HTA sta diventando decisiva in Europa e in Italia. L'Italia è stata tra i primi paesi europei ad adeguarsi alla nuova normativa europea, c'è un regolamento europeo dei dispositivi medici del 2022, l'Italia si è già adeguata, c'è un piano nazionale HTA e analoga cosa sta accadendo anche per i farmaci. Quindi in sostanza nell'acquisizione delle nuove tecnologie a tutti i livelli noi saremo costretti, per fortuna a mio modo di vedere, a entrare in logica di valutazione HTA.